Grazie ai candidati sindaci per le loro risposte, ora vi invitiamo ad ascoltare alcune delle testimonianze dei 1700 firmatari. Nel silenzio del teatro, le emozioni e il pensiero si fanno memoria e consapevolezza. Porterò con me Cannavaciuolo, che mi ha riempito l'anima di nostalgia, memorie, emozioni, ed ha fatto sì che uscissi dal teatro umanamente più ricca. Durante Spettri c'era un silenzio profondo, totale, quasi sacro. Questa è la preziosa condivisione che il teatro consente. Con i miei bambini cantiamo ancora O marinaio c'è un uomo in mezzo al mare. Ascoltate in un bellissimo pomeriggio al teatro per comincio dai tre, tutta la famiglia insieme. Oh capitano c'è un uomo in mezzo al mare, oh capitano venitelo a salutare, non sale mare neppure salutare, e finirà per affogare quel pomeriggio. Sì, ricordo con Colas di Bagliani, eravamo tutti uniti nel silenzio, uniti dall'incredibile necessità di ascoltare storie, di avere qualcuno che ci racconti una storia. Ci siamo commossi e si parlava di giustizia e di soprusi e si parlava del nostro presente con una storia del passato. Il teatro è come se tirasse fuori da me una forza nuova. Mi sono sentita parte di un tutto, nella mia città, tra la mia gente, libera, determinata, contenta di esserci. È gratitudine quella che provo. Ho visto un Galileo diverso, umano in quanto imperfetto. Eccellente quest'opera che ha scavato nell'intimo, eccellente questa produzione bellunese del tip teatro. Le produzioni teatrali di tip teatro ci donano bellezza, pensiero, emozioni e ci pongono in condizioni di pari dignità con i grandi teatri nazionali. Nella stagione di prosso del tip ho avuto la sensazione di assistere a spettacoli scelti con oculatezza, competenza e cuore. Spero che tali professionalità possano continuare ad operare per il bene della comunità. Arma Blu mi ha dato una chiave di lettura della realtà. La chiave dei bambini, la più semplice. Entrare fisicamente nei quadri di un pittore credevo fosse impossibile ed invece è stata un'esperienza reale e straordinaria. Grazie. Comincio dai tre. Con Marco Baliani ho partecipato ad un rito comunitario in cui la parola dispiegava paesaggi emotivi, visioni, pensieri, quale nutrimento dell'anima e mi sono commosso per l'immensa forza del gesto e del verbo di un uomo, solo su di una sedia, di fronte alla grande sala buia, un respiro unico ed avvolgente. Abbiamo bisogno di creare cultura attraverso le profonde suggestioni del teatro, perché le emozioni sono nutrimento dell'anima e linfa per la formazione delle persone. Il TIP ha donato al territorio bellunese cultura, formazione teatrale, occasioni condivise di confronto culturale, aperto le porte del teatro comunale a tutti i cittadini, dai più grandi ai più piccoli, donando loro nuovi sguardi, nuove consapevolezze. Per questo e tanto altro ancora sosteniamo il TIP, la purezza del suo approccio con l'arte e la realtà. Proteggiamo con determinazione questa purezza, che è valore etico e sociale per la nostra città, per la nostra comunità. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un mostone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, la libertà è partecipazione.